E' previsto per questa sera l'ultimo Consiglio Comunale del 2023 a Battipaglia. Sono diversi ed interessanti i punti all'ordine del giorno dell'assise, che potrà essere seguita in streaming sui canali social di questa televisione. Oltre agli adempimenti soliti, come l'approvazione del verbale della precedente seduta e alle comunicazioni della prima cittadina cegilla francese ed eventuali interventi, ci sarà lo spazio per le emozioni dei consiglieri. Belvedere e Via Serroni Alto, ancora una volta, saranno al centro delle discussioni. Nelle due zone della città, stando alle richieste dell'iniziativa popolare nel primo caso e di Giuseppe Provenza nel secondo, si vivono quotidianamente numerose problematiche. Tante le segnalazioni, ma a quanto pare poco viene fatto. In ogni caso, durante la seduta se ne saprà di più. Fulcro dell'assise, poi, sarà il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, per circa 100.000 euro, il tutto a seguito di sentenze o di decreti ingiuntivi sopraggiunti nell'ultimo anno. Infine, si parlerà anche di sicurezza, tema centrale degli ultimi mesi in città, con la mozione della componente di opposizione rappresentata dai consiglieri Mirra, Cuozzo, immediata, Marino, Da Campora, Visconti, Zottoli e Cairone. Il Consiglio è convocato agli ore 18.30 e qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, voce che si sta diffondendo in questione in città, viene aggiornato a lunedì 18 al medesimo orario.